Un appello per la buona sanità in provincia di Avellino lo rivolgiamo al governatore della campagna Vincenzo De Luca che si è dato una mission quasi impossibile eliminare sprechi e ruberie dalla sanità campana. Anche l'Irpini ha sprecato e ha rubato, ha dichiarato il governatore poco prima di Pasqua ai microfoni di Telenostra quasi a dire tutto il mondo è paese e però ci sono mele marce che hanno rubato anche in provincia di Avellino penalizzando la realtà circostante, i servizi in tempi di vacche magre e qui siamo messi peggio del peggio. Giova però ricordare al governatore De Luca che le politiche del centro-destra quindi dei suoi predecessori hanno fatto partire dalle asle di Avellino milioni e milioni di euro, ricorderete i tagli lacrime e sangue del direttore generale Florio che sono serviti o meglio non sono serviti a ripianare i buchi della sanità partenopea tanto i buchi erano profondi. Ora speriamo che il governo dia davvero pieni poteri a De Luca che diventi il commissario della sanità campana e possa incidere con le sue capacità amministrative ma guardi bene De Luca cosa stanno già facendo i suoi direttori generali? Come stanno organizzando la sanità? Perché evidentemente c'è qualcosa che non va. Gli scandali sono all'ordine del giorno avete sentito del vigile urbano di Avellino che usufruiva della 104 per stare a casa assistere un parente disabile nello stesso giorno però lavorava in un altro comune sempre come vigile per guadagnarsi un'altra cosa di soldi. Ecco una bella un bel giro di vite una stretta sulle 104 possiamo darlo senza attendere i poteri commissariali. Ancora governatore quante cose ci sono da migliorare in questa provincia? Un nostro telespettatore ci segnala visite oculistiche ad Ariano Irpino impossibile prenotarle perché perché il personale è poco e le ultime prenotazioni risalgono a gennaio 2018. Certo ci si può spostare ad Ariano andare in altre realtà in altri distretti delle ASL ma bisogna avere i soldi per farlo. Molti rinunciano alle cure. E ancora peggio i bimbi autistici che devono rinnovare il piano terapeutico per la logopedia ci vogliono 11 mesi per avere questa prenotazione di una visita e caso mai questa prenotazione non ci fosse i bimbi resterebbero senza senza sostegno. Mentre si parla di aprire a Sant'Angelo dei Lombardi il centro per l'autismo che ad Avellino non si è riusciti ad aprire e chissà perché anche qua sprechi e ruberie. Insomma la missione è davvero impossibile e il governatore della campagna ne siamo certi è l'unico che può risolvere questo problema perché ha le capacità amministrative per farlo. Un altro suggerimento governatore visto che la ASL di Avellino non ci dà risposta è possibile avviare uno studio epidemiologico per capire quante persone stanno morendo per tumore nella Valle del Sabato e dintorni o bisogna anche qui aspettare chissà che cosa. Prevenire è meglio che curare anche il picco delle patologie da amianto legate all'ex isochimica stanno per esplodere, saranno costi aggiuntivi per la sanità campana. Prendiamoli in tempo, avvii uno studio serio o meglio lo faccia avviare ai suoi direttori generali. In bocca al lupo governatore De Luca, l'Irpini avrà pure sprecato ma sta pagando a carissimo prezzo e ha bisogno di qualcosa in più. E questo è il punto.